Il Conservatorio Casella ha presentato oggi il progetto 1924-2024 Harry Mancini, un abruzzese ad Hollywood. Si tratta del primo omaggio italiano al grande compositore di musiche da film italo-americano, la famiglia originaria di Scanno. Enrico Mancini è stato compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra e ha fatto le sue fortune negli Stati Uniti, ricevendo in carriera Oscar riconoscimenti specializzato nelle musiche da film e autori di brani indimenticabili come Moon River in colazione da Tiffany, Baby Elephant Walk, il tema della notissima Pantera Rosa e Peter Gantem. Il progetto nasce grazie al pianista e docente del Conservatorio, Paolo Di Sabatino, esposato dal direttore del Casella. Vuole rendere omaggio a un gigante della musica, coinvolgendo gli studenti del Conservatorio. Io ascolto le musiche di Harry Mancini praticamente da sempre, perché mio padre è musicista, peraltro ha insegnato anche lui al Conservatorio dell'Aquila, e lui ascoltava le composizioni di Harry Mancini nei dischi di Quincy Jones e nei dischi di Harry Mancini stesso. Beh, lui aveva una, a parte una conoscenza dell'orchestra eccezionale, era un arrangiatore, un compositore sopraffino, e poi aveva dei tratti melodici assolutamente riconoscibili, e non è un caso che abbia vinto per due sue canzoni, abbia vinto anche il premio Oscar, come non ricordare Moon River, quindi diciamo la cantabilità delle sue canzoni. Ci saranno tre concerti, durante i quali verranno eseguiti i brani più belli e famosi di Mancini, in originali arrangiamenti realizzati dallo stesso di Sabatino. Ogni concerto verrà protagonista una formazione inedica, trio jazz e orchestra d'archi, coinvolti gli studenti con i docenti di Sabatino Roberto Gatto e Luca Pirozzi, direzione d'orchestra di un altro docente, Gabriele Bonolis. Ospiti d'onore della serata del 18 aprile all'Aquila e tre figli di Mancini, che arriveranno da Los Angeles per la prima volta nei luoghi della loro origine, per festeggiare il centesimo anniversario della nascita del padre. La figlia Monica, cantante di successo negli USA, si unirà all'ansamble del Casella, interpretando alcuni brani del papà. I concerti saranno all'Aquila il 17 e 18 aprile, il 19 a Scanno, il 19 a Francavilla e il 20 a Teramo. Si tratta di un personaggio della terra d'Abruzzo, della provincia dell'Aquila, non potevamo esimerci da questa celebrazione. Sarà un caso, ma io da bambino seguivo un solo cartone animato, a Pantera Rosa, e quindi capita proprio ad hoc. Grazie al professor Di Sabatino, che ha avuto la costanza di puntare su questo progetto, il conservatorio l'ha sposato in pieno, e quindi cominciamo questa bella settimana, quasi settimana di celebrazioni per questo grande musicista.